Scacco ad una gang bulgara che si era specializzata nello sfruttamento della prostituzione. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Pescara nell'ambito dell'operazione Ombre Bulgare hanno infatti concluso nelle ultime ore una complessa attività di indagine avviata nel settembre 2015 nei confronti di un sodalizio di cittadini di nazionalità bulgara ritenuti responsabili dei reati di sfruttamento della prostituzione con aggravante della transnazionalità. Tre le persone finite in manette una quarta il leader dell'associazione è ancora ricercata. Un sodalizio contraddistinto dalla particolarità di adottare un modus operandi diverso da quello riscontrato per le prostitute di etnia rumena e albanese ovvero da un controllo a vista delle donne lasciate sul marciapiede e con una figura di riferimento che intratteneva i rapporti tra le stesse durante l'arco notturno. Un'attività di indagine lunga complessa condotta con metodi tradizionali? Sì tradizionali con diversi servizi di osservazione riscontro ma anche servizi di controllo identificazione delle prostitute anche al fine di consentire loro di dialogare con quelle che sono le forze di polizia ed eventualmente aprirsi per un'assistenza soprattutto dal punto di vista morale e dei loro bisogni perché spesso ricordiamoci che si tratta di persone che vengono costrette a prostituirsi dietro minaccia anche nei confronti dei loro familiari o sottoposte a dei soprusi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.